Festa grande per il Catania, nell'ultimo al Massimino in Serie D. Catania che alza la Coppa per celebrare la vittoria del campionato e batte con un comodo 2-0, una polisportiva Santa Maria già in vacanza. Decidono il colpo di testa di Sarao nel primo tempo e il tapindira Pisarda, su palla respinta dalla traversa nella ripresa. Dietro la capolista infuria la lotta per i play-off, con la testa già gli spareggi, la seconda della classe, il Locri già sicuro del proprio piazzamento che lascia tre punti alla San Cataldese. I siciliani si aggiudicano la gara grazie alla girata al volo di Baglione e restano in corsa per un posto negli spareggi di alta classifica. Sgomitano in cinque per i posti dal terzo al quinto, oltre la San Cataldese anche Sant'Agata e la Mezzia, con i calabresi che vincono in casa dei siciliani e li agganciano in classifica. Gara ricca di colpi di scena, vantaggio ospite con Terra Nova lanciato sul filo dell'offside, ma padroni di casa che rimontano, prima con il colpo di testa di Casella su azione di corner, poi nella ripresa con la spaccata di Capitan Cicirello e con il piattone di Morleo che finalizza un rapidissimo contropiede. Sembra finita, invece improvvisamente si accende a Dessi, che prima riapre la gara con un raso a terra che prende in controtempo il portiere di casa, poi trova il pari con un preciso pallonetto sfruttando un liscio della difesa siciliana, infine con un tapin su quale i padroni di casa protestano per un sospetto offside. La gara si innervosisce e ne fanno le spese tre giocatori di casa espulsi, tra i quali Vitale e Tuli. Sia la Mezzia che Sant'Agata però rimangono appunto in corsa per i play-off, così come il Lelicata che batte 1-0 il Ragusa grazie alla zampata di Saito e condanna gli blei ai play-out, e così come il Trapani che strappa il pari a Vibo, vantaggio dei padroni di casa con il diagonale di Zimanowski, ma Mascari con un tocco sottomisura rimette nel equilibrio la gara ed esclude il rosso-blu dagli spareggi di alta classifica. In zona play-out impresa della Cireale che strappa i tre punti al paternò sul neutro di Biancavilla grazie al velenoso diagonale di Rotella. Granata quasi salvi, così come il Castrovilleri nonostante il pari interno per 1-1 col San Luca. Vantaggio dei lupi del Pollino con il diagonale di Brignola, ospiti che tengono vive le speranze di salvezza grazie al colpo di testa di Ale nella ripresa. Vince il Real la versa 1-0 in casa della già retrocessa mariglianese grazie al fortunoso gol in apertura di Romano. Successo che non basta agli Amaranto, freschi di passaggio alla holding Real Casa che già detiene il Savoia per evitare i play-out. Così come non evita la retrocessione il Cittanova che perde in casa 2-0 con il Canicatì. Le reti nel primo tempo di Guayet e di Iezzi valgono la matematica certezza del ritorno in eccellenza per i giallorossi calabresi. Grazie. Grazie.